Oggi è il 14 novembre. 1831. Muore Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1991. Autorità americane e scozzesi accusano la Livia per l'attentato di Lockerbie. 1893. Nasce Carlo Emilio Garda. Commenta il fatto del giorno Luca Ubaldeschi, direttore del secolo XIX. Una svolta per la medicina, il primo trapianto di cuore in Italia. Grazie a tutti.